Basta, sei una persona brutta. Dillo, dillo quello che vuoi dire. Con un po' di passione. La passione c'era. Nel senso, non è che bisogna... Insomma, anche quella leccata d'orecchio era buona cosa... Ah, bene, dobbiamo dare solo un po' più intenso? A gratis, a gratis. Eh, no, bene, ormai, le passi. Non mi voglio già, non mi voglio... Non mi voglio, non mi voglio...